Deliziosi biscottini di Halloween con crema spalmabile con riso, nocciola e cacao di riso scotti. Ecco a voi la ricetta della frolla perfetta. Mettete in una planetaria la farina e poi la margarina oppure il burro senza lattosio. Azionate la planetaria e fatela andare finché non otterrete un composto sabbioso. Ora è il momento di aggiungere lo zucchero e poi l'uovo. Continuate a impastare, aggiungete anche la vaniglia e un pizzico di sale. In un attimo la vostra frolla sarà pronta. Mettetela su un piano di lavoro, fate una palla, appiattitela leggermente e incartatela con pellicola trasparente. Fatela riposare in frigorifero per almeno due ore. Infarinate il piano di lavoro e prendete due bacchette per la frolla da mettere ai lati. Stendete piccole porzioni di frolla così non avrete bisogno di raffreddarla ulteriormente. Ora è il momento di tagliarla con le vostre formine di Halloween preferite. Potete ricavare dei buchini per far fuori uscire la crema spalmabile semplicemente con degli stuzzicadenti. Mettete i vostri biscotti su una placca coperta di carta forno e infornate a 175 gradi per circa 10-12 minuti. Infornate e lasciate raffreddare, i vostri biscotti sono pronti per essere farciti con la crema spalmabile con riso nocciola e cacao di riso scotti. Farcite i biscotti e mi raccomando esagerate. Non sono carinissimi? Buon Halloween a tutti! Buon Halloween a tutti!